Donald Trump aveva serie riserve circa la capacità di giudizio del suo consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, che pure, secondo James Comey, cercò di salvare dalle indagini dell'FBI. E' uno degli elementi di novità che emergono dalle memorie del superpoliziotto appena inviate dal Dipartimento di Giustizia al Congresso. Il documento, redatto prima che l'ex numero uno dell'FBI fosse licenziato dal Presidente nel maggio 2017, nel pieno delle investigazioni su Russiagate, riporta conversazioni confidenziali avvenute fra i due, in parte già raccontate nel libro di Comey appena uscito. Le sue memorie dimostrano chiaramente che le indagini non vennero ostacolate, ha twittato Trump, e per di più Comey fece uscire informazioni riservate. Continuerà questa caccia alle streghe? Negli scritti non mancano anche aneddoti hard, come quello di Vladimir Putin che disse al tycoon «abbiamo le prostitute più belle del mondo».